La Guardia di Finanza di Caltanissetta, grazie ad una segnalazione elaborata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni e Frodi Comunitarie, ha da poco concluso un'articolata attività ispettiva nei confronti del titolare di un'attività commerciale di San Cataldo, il quale, in violazione della normativa che disciplina il bonus cultura, avrebbe comunicato falsamente al Ministero la rivendita di libri, biglietti di spettacoli teatrali e ingresso al cinema, cedendo invece beni da lui commercializzati come cellulari, videogiochi e computer non contemplati nelle categorie ammessa al beneficio. Si sarebbe verificato che commercianti meno virtuosi si siano accreditati al sistema della 18App, la piattaforma ufficiale utilizzata per l'erogazione del bonus, per rivendere prodotti diversi da quelli indicati dalla norma, traendone un illecito beneficio a danno della spesa pubblica. Gli approfondimenti svolti hanno portato quindi alla segnalazione del responsabile alla locale autorità giudiziaria, per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Sono state altresì elevate sanzioni amministrative per il lecito utilizzo del bonus cultura nei confronti di 360 fruitori, tutti residenti nella provincia nissena e in quelle limitrofe, per un ammontare complessivo di oltre 160.000 euro. Al termine delle attività svolte, come riporta la notte della Guardia di Finanza, il Ministero della Cultura è intervenuto con l'immediata sospensione dell'accreditamento del profilo virtuale dell'esercente dal sistema 18-UP e avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.